raga buongiorno oggi terzo giorno di ferie a tenerife questa mattina ce ne andremo a caccia di balena se le troviamo sempre un'escursione in barca vela a vedere balene e delfini prendiamo l'asciugamani prendiamo il costume e partiamo direzione puerto colon da tenerife oh goddio parcheggio libero qua a pagamento siamo arrivati che giocavamo fermavamo sutta? eh bene sutta ma non penso no c'è un compagno? Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti.